Musica Cari telespettatori siamo pronti per un'altra puntata in diretta dedicata ai sindaci del nostro territorio questa sera torniamo ad ospitare un vicino di casa, il primo cittadino di Mondolfo, Nicola Barbieri Buonasera Sindaco Buonasera a te Simone e a tutti i telespettatori Sindaco sono già arrivati dei messaggi per lei, glielo anticipo però ricordo i numeri di telefono di riferimento, se volete intervenire in diretta dovete chiamare lo 0721 86 14 33 oppure mi potete mandare un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250 rimarranno in sovraimpressione per cui riuscite appunto a notarli bene stasera ci sono state delle grosse raffiche di vento, in realtà un po' per tutta la giornata un allerta meteo che proseguirà anche nelle prossime ore, sono stati provocati dei danni nel vostro territorio? No, al momento non abbiamo avuto segnalazione da parte dei nostri cittadini e poi vedremo anche dopo la serata insomma, terremo monitorata la situazione per diverse ore vista l'allerta Bene, ci fa piacere questo ed eventualmente come sempre anche nel nostro sito occhialanotizia.it troverete tutti gli aggiornamenti Iniziamo a parlare dei lavori pubblici, abbiamo tante cose da dire e da raccontare questa sera io direi di partire dalla ciclabile perché a Marotta è stata presentata la nuova pista ciclabile che andrà a collegare Piano Marina al centro, a Marotta Centro un bel intervento, un intervento importante, una ciclabile che verrà illuminata e ci sarà anche un significato che verrà attribuito a questa pista dal punto di vista storico-culturale Ci racconti un po' ecco quello che è il lavoro? Sì, è una pista ciclabile significativa per il nostro territorio in particolar modo per il quartiere di Piano Marina l'abbiamo presentata una settimana fa con tanti cittadini un'assemblea davvero molto partecipata siamo abituati ormai nel mondo dei social ad esserci e a partecipare poco agli incontri invece abbiamo appunto presentato questa pista ciclabile nel quartiere mi ha fatto molto piacere incontrare tanti cittadini interessati proprio l'abbiamo fatto per condividere questo progetto che era all'interno del nostro, era uno dei punti del nostro programma elettorale l'andiamo a realizzare, abbiamo iniziato da poco i lavori e sarà una pista ciclabile che collegherà il quartiere di Piano Marina con il centro di Marotta quindi darà la possibilità a tutti i cittadini di Piano Marina di raggiungere finalmente il centro di Marotta in particolar modo come vedete dalle immagini via Berlinguer, all'altezza del sottopasso Togliatti via G di Vittorio e la via L'Europa quindi sul lato della Pergolese sarà una pista ciclabile, un percorso ciclabile ma anche pedonale che realizziamo in collaborazione con una ditta che si è insediata da poco nel nostro territorio che ha condiviso il nostro progetto che è la ditta Sodico quindi la prima parte per chi è di Piano Marina conosce bene la zona per la pista ciclabile che va da Via della Luna alla rotatoria esistente tra Via del Sole e Via del Mare l'intervento verrà realizzato dalla ditta Sodico poi noi allargheremo la strada sul semicerchio della rotatoria e continueremo con la segnaletica fino alla Pergolese dove lì inseriremo un attraversamento pedonale invece per quanto riguarda la pista ciclabile che entra su Via G di Vittorio e Via Berlinguer quello è un progetto legato al PP45 che è una nuova lottizzazione residenziale che stanno realizzando da poco e per quanto riguarda il tratto che va da Via della Luna alla rotatoria gli espropri il comune li ha fatti sia per la sede della ciclabile ma anche per la sede stradale perché lì in futuro poi realizzeremo l'intenzione quella di realizzare una strada che è molto importante e quindi che collega Via della Luna alla rotatoria quindi una serie di interventi dei tempi rispetto a questi interventi appunto ma intanto entro il 2020 quello che vedete in rosso verrà completato poi per quanto riguarda la viabilità futura nel bilancio del 2020 adesso non è prevista la strada poi cercheremo di metterla compatibilmente con le risorse che abbiamo a bilancio cercheremo di metterla al primo possibile ci tengo a precisare anche un altro aspetto che in futuro ci sarà un percorso ciclabile pedonale e anche carrabile all'altezza di Via Primo Maggio e Via 25 Aprile quindi quei cittadini che erano costretti a raggiungere il centro di Marotta passando sulla strada statale quindi in una situazione pericolosa poi potranno passare in sicurezza proprio su questo nuovo percorso State puntando tanto su questi percorsi per le due ruote? Sì ci puntiamo tanto abbiamo da inizio mandato abbiamo e ci tengo a ricordarlo abbiamo approvato un progetto che è il Biciplan che è un piano, una rete di percorsi su tutto il territorio comunale percorsi ciclabili e percorsi pedonali questo Biciplan è entrato a far parte del piano regolatore quindi nelle nuove lottizzazioni al contrario del passato chi costruisce è costretto a tenere in considerazione questo Biciplan e quindi a realizzare percorsi ciclabili e percorsi pedonali come avviene adesso, come avverrà nel PP45 quindi rappresenta una soluzione a mio avviso che in passato non era tenuta in considerazione ma che è doveroso portare avanti come amministrazione comunale Buonasera Sindaco, è vero che verrà realizzato un ponte sul fiume Cesano per la ciclicità adriatica? Se sì, quando? Sì, in realtà è la ciclovia adriatica e verrà realizzato per quanto riguarda le tempistiche l'abbiamo presentato quest'anno perché quest'anno faremo progettazione e gara è un progetto che portiamo avanti assieme alla Regione Marche che in questo caso finanzia totalmente l'infrastruttura d'accordo naturalmente con il Comune di Senigallia in questo caso il Comune di Mondolfo un'infrastruttura molto importante progettazione e gara nel 2020 inizio lavori saranno nel 2021 quindi io credo nella seconda metà del 2021 vedremo l'inizio dei lavori di questa infrastruttura che è un'infrastruttura importante un sogno che a mio avviso diventa realtà per tutti i cittadini del nostro territorio in tanti si spostano tra Marotta e Senigallia passando sul ponte, quindi sulla strada statale in una situazione di grande pericolo e invece questa sarà un'infrastruttura che dà una bellissima risposta dal punto di vista turistico dal punto di vista culturale di mobilità sostenibile e credo che sia un'infrastruttura che unisce i territori e che unisce le persone davvero sono infrastrutture che cambiano il futuro delle due province in questo caso la provincia di Pesorubino e la provincia di Ancona ha una grande valenza questa infrastruttura Sindaco, ci hanno inviato una foto purtroppo non riusciamo a farla vedere a casa però lei se si sporge un attimo può notare questo autobus non so se riesce a vederlo da lì un nostro telespettatore ci ha scritto non posso non segnalare con grande rammarico l'imminente rottamazione di questo ex vostro scuolabus che ormai è un ferrovecchio un po' privo di valore economico ma che rappresenta per tanti un pezzo molto importante di storia non solo del servizio di trasporto del comune stesso ma un po' di tutta Italia essendo un modello molto diffuso anche dell'epoca ma oggi che è scomparso solo lei le dicono può fare qualcosa per bloccare la demolizione ci fanno sapere anche che ci sarebbero diverse associazioni pronte per intervenire per salvarlo per restaurarlo se può fare qualcosa sindaco sì è un autobus particolare che ricordo bene perché ci salivo io quando andavo alle scuole medie alle scuole elementari un autobus giallo non so se molti di voi riescono a ricordarlo molto bene un amministratore però deve guardare a quella che è la sicurezza dei cittadini dei nostri bambini dei nostri ragazzi quindi abbiamo fatto abbiamo intrapreso un percorso importante siamo andati a gara abbiamo affidato la gestione il servizio ad una nuova ditta con i nostri dipendenti comunali che sono dipendenti molto validi e quindi c'è stato una modifica un cambio, un rinnovamento di quello che era il parco mezzi degli autobus del comune di Mondolfo anche perché il mondo cambia e naturalmente bisogna rinnovarsi e anche le norme cambiano le normative cambiano bisogna avere dei mezzi che siano in sicurezza abbiamo una telefonata per lei sì ce l'abbiamo è pronta sentiamo chi c'è al telefono buonasera sì buonasera sono uno dei promotori del gruppo con la Fiedrotti che ho mandato al Fomarotta buonasera sì buonasera sì buonasera io volevo sapere se è possibile noi ci siamo visti a novembre per l'occasione dell'Assemblea pubblica dove tra l'altro l'unica informazione è inutile c'è una data lei dicendo dentro il 2020 volevo sapere visto che siamo a febbraio se entro il primo trimestre si poteva o inviare una nuova Assemblea pubblica oppure se considerava la cosa eccessiva magari darci informazioni ufficiali in merito allo sviluppo ecco e come seconda cosa anche se aveva notizie riguardo a team come lei ben sa Open Fiber non può utilizzare la totalità dei cittadini ma circa il 10% delle unità immobiliari rimarranno esclose grazie è stato richiesto anche un altro incontro pubblico proprio per parlare di questo argomento in tanti ci hanno chiesto informazioni ecco su questa banda ultra larga e copre come mi diceva anche prima di andare in diretta un 90% del territorio mi fa piacere ringrazio anche il cittadino per la domanda e per l'intervento è una infrastruttura che è richiesta non soltanto nel nostro comune ma in tutti i territori comunali abbiamo fatto un incontro proprio perché c'era l'esigenza di informare tutti i cittadini su quello che erano i lavori e lo stato delle cose purtroppo il comune di Mondolfo come ente possiamo fare ben poco nel senso che noi stiamo dando tutte le autorizzazioni che è possibile dare darle in tempo veloce a Open Fiber per fare in modo che termini i lavori il prima possibile quando ci eravamo incontrati due mesi fa all'assemblea avevamo detto che stavano per iniziare i lavori di Open Fiber in effetti sono iniziati saranno 62 faccio un attimo un riepilogo per i cittadini a casa saranno 62 chilometri di fibra ottica che copriranno all'incirca il 90% del territorio comunale alcune parti vengono fatte posando la fibra nei cavidotti esistenti quindi cercando il più possibile di non rovinare la pavimentazione stradale in altri casi dove non ci sono i cavidotti esistenti i cavidotti bisogna appunto crearlo Open Fiber sta andando spedita e come tempistiche ha dato dei tempi però molto larghi perché ha detto che terminerà i lavori entro il 2020 abbiamo richiesto appunto un cronoprogramma ufficiale dei lavori per vedere bene quando verranno conclusi intanto in questi mesi andranno avanti spediti anche perché entro il 2020 Open Fiber deve realizzare per forza tutta l'infrastruttura all'interno del comune di Mondolfo ci sono delle penalità eventualmente ci sono delle penalità da parte del ministero e se guardate le notizie a livello nazionale è una tematica molto discursa il ministero dello sviluppo economico sta sollecitando Open Fiber negli interventi perché sono in ritardo di circa un anno e mezzo quindi anche noi come amministratori comunali cerchiamo di sollecitare la regione che deve ha il dovere di sollecitare il ministero affinché spinga ancora di più su Open Fiber per terminare i lavori il prima possibile perché Open Fiber deve coprire tutti i comuni del territorio nazionale per quanto riguarda Tim mi faceva questa domanda il cittadino purtroppo il comune di Mondolfo si è mosso ha sollecitato Telecom anche nelle ultime settimane ma la risposta è stata sempre la stessa cioè che l'autorità garante per la concorrenza la GCM che l'autorità garante per la concorrenza il mercato ha bloccato al momento Telecom e non sbloccherà Telecom fino a quando Open Fiber non terminerà i lavori all'interno del comune di Mondolfo c'è anche una situazione a livello nazionale in cui Open Fiber e Telecom sembra che ci possa essere la possibilità di una fusione e se ci fosse questa fusione aiuterebbe molto l'avanzamento dei lavori però noi cercheremo di informare i cittadini il prima possibile adesso non possiamo fare incontri quando ci saranno degli aggiornamenti e assemblee ogni mese abbiamo un'altra telefonata per lei sindaco intanto le fanno i complimenti per quello che ha fatto che sta facendo ci dicono nessun sindaco aveva mai fatto tanto per Marotte Mondolfo sentiamo chi c'è in linea buonasera ci sente? pronto? buonasera la sentiamo buonasera sindaco buonasera buonasera abito in via Cesanese 34 in zona Serpettine e le volevo domandare quando metteremo questi famosi lampioni che qui la strada è un po' insomma molto pericolosa anche camminare a piedi io abito in via Cesanese numero 34 come le dico zona Serpettine e sono del comune di Mondolfo va bene grazie apriamo allora l'argomento dell'illuminazione rispondiamo al cittadino e poi vediamo anche quello che state facendo va bene allora per quanto riguarda l'illuminazione su via Cesanese ne avevamo parlato anche circa due mesi due tre mesi fa quando ci siamo visti qua perché sull'illuminazione pubblica abbiamo fatto diversi interventi sul territorio comunale e quest'anno cercheremo di fare l'intervento non cercheremo nel senso che vogliamo assolutamente realizzarlo l'intervento su via Cesanese perché è una strada sì provinciale che però diciamo è molto trafficata è una strada da mettere assolutamente in sicurezza dove ci sono tantissime abitazioni come diceva il cittadino assurdo che ci siano delle strade nel nostro territorio in cui purtroppo non era stata prevista l'illuminazione pubblica però con il tempo e negli anni stiamo facendo diversi interventi circa 700-800 metri della via Cesanese magari quello centrale dove ci sono più abitazioni lo copriamo adesso chiedo un attimo l'aiuto della regia Cristiana Riccardo perché vorrei far vedere con le immagini i lavori che vengono eseguiti o che sono già stati eseguiti questo dovrebbero dovrebbe essere sono le strisce pedonali sulla Pergolese giusto sindaco? sì questi sono gli attraversamenti pedonali illuminati che abbiamo realizzato l'anno scorso sulla strada statale questo è quello di Centocroci ne abbiamo realizzati quattro attraversamenti pedonali illuminati sulla strada statale all'altezza dei sottopassi esistenti poi ne abbiamo realizzati due su Viale Vittorio Veneto con la realizzazione anche del marciapiede per fare in modo che le persone possano percorrere i pedoni possano percorrere in sicurezza la parte centrale di Viale Vittorio Veneto lì abbiamo messo due attraversamenti pedonali illuminati e poi c'era l'immagine di prima che era l'attraversamento pedonale illuminato all'altezza dell'incrocio di Centocroci quindi sono tutti interventi legati alla viabilità alla sicurezza cerchiamo di fare del nostro meglio per migliorare quelle che sono le situazioni magari le situazioni un po' più critiche dopo naturalmente servirebbero in tutto il territorio comunale però lo faremo negli anni la situazione che sta cambiando come diceva lei si qua in questa immagine sono i lavori all'altezza del lungomare di Marotta Sud anche lì c'era la zona di Marotta Sud dopo le vele era un tratto molto importante che non era praticamente illuminato e adesso abbiamo realizzato l'illuminazione pubblica tra l'altro sono tutti interventi collegati questo riguarda appunto la sicurezza e l'illuminazione ecco il prima e il dopo praticamente era totalmente al buio quella parte di lungomare adesso l'abbiamo illuminata è una bella differenza anche per la sicurezza per la sicurezza in più parliamo di ciclovia adriatica non è possibile che la ciclabile sul lungomare non sia illuminata quindi si farà questo ponte ciclopedonale sul Cesano è stato fatto il sottopasso all'altezza del girasole quindi anche la zona sud aveva bisogno di attenzione questa è via Illica scusate questa si era la parte di via Illica era un'altra strada un'altra via del territorio comunale che era sprovvista da illuminazione pubblica e anche lì abbiamo fatto un bel intervento con illuminazione a led che quindi risparmio energetico riduzione dell'inquinamento luminoso è un botte risposta richiedo davvero perché sono tanti i messaggi che ci sono arrivati avete mai valutato di proseguire marciapiede ciclabile sulla strada statale che va da via Montemarino c'è stata una correzione a via Trepini purtroppo il lavoro iniziato anni fa da via Collodi si è fermato e quindi insomma volevano avere informazioni su questo anche lì è vero il marciapiede non è stato poi mai proseguito in quella zona sulla statale c'è un intervento importante che voglio segnalare a chi ha fatto la domanda riguarda la la fermata dell'autobus di via Andersen che era una fermata molto pericolosa ricordo anche un servizio qui proprio qui di Fano TV che era una è una fermata pericolosa che è sulla sulla strada statale dove che è molto utilizzata da dai cittadini che abitano in quella zona e finalmente riusciremo a finanziarla è stata inserita nel bando regionale quindi avremo finalmente la sistemazione di questa di questa fermata buonasera siccome si è detto che i parcheggi di via fa di Bruno verranno spostati in lato monte per un fatto di sicurezza vorrei dire che secondo me sarà il contrario perché le macchine parcheggiate al centro fanno da barriera tra la pista ciclabile e la corsia di transito che cosa ne pensa lei? penso che non sono d'accordo in quanto il progetto che abbiamo che stiamo realizzando di riqualificazione del lungomare di Marotta Nord è un progetto dove l'aspetto della sicurezza è stato valutato sin dall'inizio e se abbiamo ottenuto il finanziamento attraverso il bando europeo è anche per questo qualcuno mi ha detto ma le automobili non si potevano parcheggiare vicino alla ciclabile in realtà da normativa non essendoci lo spazio sul lungomare le automobili andrebbero al ridosso della nuova pista ciclabile quindi ritorneremo alla situazione che avevamo la scorsa estate dove chi quando uno esce dalla macchina e apre lo sportello praticamente rischia di buttare giù un ciclista oppure un pedone quindi è più pericoloso ma sono state tutte cose che abbiamo valutato in sede di progettazione per cercare di inserire un po' il tutto naturalmente quando inizieranno i lavori al cimitero erano stati promessi in realtà dopo quattro mesi non si è visto nulla e siamo un po' delusi ma in realtà per il cimitero i lavori sono iniziati nel senso che hanno fatto da poco la bonifica degli ordini bellici abbiamo dovuto togliere delle alberature c'erano parecchi alberi nella zona nel terreno dove deve appunto arrivare questo nuovo l'ampliamento del cimitero dove dovremo realizzare l'ampliamento del cimitero e la ditta c'è compatibilmente appunto con la bonifica degli ordini bellici però siamo in procinto di partire anche lì il cimitero avevamo una situazione di grande emergenza continuiamo ad averla però diciamo che la stiamo gestendo nel migliore dei modi anche con la pazienza di tanti cittadini complimenti per il lavoro che ha svolto finora li scrivono ci sono progetti per via Arturo Martini a Marotta ci raccontano che si tratta di una strada molto trafficata anche dai ragazzi con la presenza della chiesa mancano parcheggi corsie pedonali e soprattutto un dissuasore di velocità allora sul dissuasore di velocità non possiamo parlare vediamo anche con la polizia locale per quanto riguarda via Martini ricordo quando mi sono insediato che era una via piena di buche abbiamo appunto fatto una nuova asfaltatura quindi rifacimento del manto stradale anche ai lati proprio per dare la possibilità di parcheggiare le auto in realtà la sosta è un po' selvaggia e come dice il cittadino forse un percorso pedonale ciclabile sarebbe opportuno che cosa farà per le strade del centro storico che sono dissestate una tra tutte via San Michele allora via San Michele sì è stato oggetto anche di una raccolta firme da parte dei cittadini all'interno delle mura quindi nel centro storico di Mondolfo anche lì servirebbe un intervento noi adesso inizieremo i lavori come una delle opere pubbliche tra le più importanti all'interno del centro storico è il rifacimento del bastione Sant'Anna in particolare il restauro e il miglioramento sismico del bastione Sant'Anna quindi inizieremo da quell'intervento sarebbe da rifare anche la pavimentazione di piazza del comune prima ancora della via San Michele che magari è meno trafficata piazza del comune che invece diciamo una zona più trafficata più utilizzata ma anche il centro del paese ed è un po' l'immagine di Mondolfo sarebbe da rifare quindi vorremmo dopo l'intervento al bastione Sant'Anna dare la priorità prima la piazza del comune poi sono tutti interventi e confronti e condivisioni che faremo all'interno del consiglio comunale anche con i consiglieri di minoranza Perfetto perché almeno in questo caso mi ha risposto a tanti messaggi che chiedevano gli interventi anche di recupero previsti per la città apriamo un attimo il tema delle scuole perché anzi partiamo da questo messaggio dato che la regione Marche ha aderito alla giornata della frutta nelle scuole si potrebbero inserire delle merende fresche invece dei distributori automatici? Possiamo valutarlo vedere anche che cosa dispone la normativa e possiamo tenerlo sicuramente in considerazione anche se ogni scelta deve essere poi condivisa dall'istituto comprensivo Però possiamo parlare di borracce quelle sicuramente faranno parte delle scuole e verranno consegnate agli alunni Sì abbiamo acquistato in collaborazione con l'ambito territoriale ottimale 1 le borracce quindi borracce plastic free circa 1300 borracce che consegneremo a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Mondolfo e Marotta lo faremo in diverse mattinate ecco qui la giunta comunale con le borracce che poi consegneremo a tutti gli alunni lo faremo in diverse mattinate a fine mese in collaborazione con l'istituto comprensivo Fermi e Fadibruno quindi lo facciamo per sensibilizzare alla sostenibilità al rispetto dell'ambiente ho visto anche tramite i social che è stata apprezzata questa idea dell'amministrazione comunale su queste iniziative legate al plastic free e al rispetto dell'ambiente ci puntiamo molto abbiamo organizzato anche in collaborazione con le scuole con quelli che sono i cittadini del domani le nuove generazioni per sensibilizzarle ancora di più abbiamo fatto tante iniziative da Puliamo il mondo a Puliamo la spiaggia quindi per la contro diciamo l'abbandono dei rifiuti delle microplastiche in mare e in spiaggia dovremmo avere anche una foto di una balena un po' particolare mangiaplastica è stato un bellissimo pesce mangiaplastica che è stato realizzato dai volontari dell'associazione Malarupta in particolare Roberto San Teusanio ed altri suoi collaboratori è stata un'idea veramente geniale che ha portato una grande attenzione sul lungomare di Marotta quindi li ringraziamo e significa che anche le associazioni del territorio vanno in questa direzione quindi si fa squadra e anche questo è stato un gesto molto importante che sicuramente vale più di mille parole ritorniamo un attimo a parlare di scuole e di strumentazioni che vengono consegnate in questo caso ai ragazzi perché grazie alla riduzione dell'indennità sua ma anche della giunta è stato appunto fatto questo un grande gesto da parte della giunta perché appunto grazie a queste riduzioni sono state già consegnate che cosa PC portateli se non ricordo male noi nel 2016 appena ci siamo insediati la prima azione che abbiamo fatto è stata la riduzione dell'indennità di sindaco e assessore a favore di progetti per la città siamo ridotti le indennità del 10% ogni anno facciamo un concorso di idee dove chiediamo ai cittadini di darci appunto delle idee di segnalarci dei progetti che possiamo portare avanti con queste risorse che non sono tante ma lo riteniamo un gesto importante che facciamo proprio perché vogliamo bene a questo territorio ci teniamo e abbiamo fatto diverse cose di cui siamo orgogliosi come le attrezzature sportive sul lungomare come il restauro del monumento ai caduti a Mondolfo e adesso abbiamo accolto volentieri la proposta dei due istituti comprensivi Fermi e Fadi Bruno che anche loro quindi anche le scuole hanno partecipato al concorso di idee ci hanno chiesto nuove attrezzature e quindi attrezzature e dotazioni innovative allora abbiamo acquistato lavagne interattive multimediali schermi LCD e anche pc portatili li abbiamo portati nelle scuole quest'anno a metà circa del 2020 riapriremo il concorso di idee per la riduzione delle indennità di sindaco e assessori del 2019 e del 2020 ogni anno mettiamo da parte circa 10.700 euro una bellissima cifra importante avete fatto visita anche a un asilo nido Brontolo sì l'abbiamo fatto venerdì mattina una visita lì perché abbiamo realizzato diversi interventi nuovi giochi gazebo nuove recinzioni per la sicurezza appunto dei bambini dell'asilo nido abbiamo fatto anche un impianto di condizionamento per le stagioni più calda quindi diversi interventi questo dimostra l'attenzione anche dell'amministrazione comunale verso tutte le strutture scolastiche a partire dai piccolissimi fino ad arrivare ai ragazzi delle medie quando verrà fatto un piano comunale per la eliminazione delle barriere architettoniche in tutti i luoghi pubblici? allora per l'abbattimento delle barriere architettoniche abbiamo ci intengo a questo aspetto perché l'anno scorso noi ogni anno facciamo il consiglio dei bambini e uno dei temi che abbiamo portato il tema che abbiamo portato l'anno scorso è proprio l'abbattimento delle barriere architettoniche abbiamo realizzato dei video assieme ai bambini delle scuole elementari in particolare le classi quinte che sono coinvolte all'interno del consiglio dei bambini e sono venute fuori diverse idee è stato fatto un video anche molto importante anche con la collaborazione dell'assessore Davide Caporaletti che abbiamo inviato poi anche al presidente della Repubblica perché è un tema a cui teniamo ci sono interventi da fare perché ma in tutti i comuni perché le amministrazioni comunali passate non era usanza tenere in considerazione questi aspetti quindi le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini cerchiamo di dargli una risposta un aspetto visto che abbiamo parlato anche di scuola ad esempio nella scuola elementare Moretti c'era uno spazio per la realizzazione di un ascensore che non era mai stato realizzato e noi invece l'abbiamo realizzato quindi quello è un abbattimento della barriera architettonica in un luogo specifico che è la scuola in questo caso scuola elementare che adesso è diventata anche scuola media con i lavori alle scuole medie e fermi prima di andare in pubblicità velocemente due messaggi dicono finalmente un signor sindaco e ancora ne ho letto un altro carino vediamo se riesco a trovare eccolo non ho una domanda per il sindaco Nicola volevo solo salutarlo e dirgli anche che sta facendo un lavoro fantastico ed è pure molto fotogenico bene grazie tra poco torniamo a leggere tanti altri messaggi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità ben tornati in diretta primo cittadino sono tante davvero le domande che i cittadini stanno mandando per per porgliele a lei ad esempio lo stadio di Mondolfo è privo di tribune si può fare qualcosa le squadre ci portano tutti in giro per questo hanno scritto sì lì allo stadio di Mondolfo abbiamo avuto una una problematica che era legata ad una vecchia tribuna che non era più in sicurezza quindi abbiamo dovuto era una tribuna che era lì da diverso tempo e abbiamo dovuto toglierla proprio per per la sicurezza quindi dei dei tifosi è una tribuna dove andavano i tifosi ospiti e quindi anche il il Mondolfo Calcio che è la società principale che va a giocare proprio lì nel campo ci ha richiesto questo intervento è un intervento tra quelli da mettere in programma adesso non ce l'abbiamo in previsione però vedremo e cercheremo anche magari di condividere un'idea assieme alla società che gestisce il campo poi parleremo anche di bilancio passiamo all'inaugurazione del campo sportivo di Via Fermi anche questo è un lavoro importante questo è un lavoro che ci rende molto orgogliosi perché ecco qua vediamo la foto del prima e il dopo tantissimi anni da consigliere comunale di minoranza avevo sollecitato più volte la sua riqualificazione queste solleciti erano rimasti inascoltati e poi con la nostra amministrazione comunale dai è una bella soddisfazione vedere i ragazzi vederlo illuminato quando sali nel centro storico quindi davvero fa una bella immagina il manto in erba sintetica illuminazione a led gli spogliatoi che non erano previsti li abbiamo realizzati poi da qui da questa immagine dall'alto si vede bene l'intervento ne faremo altri di interventi sul campo sportivo vorremmo ampliare gli spogliatoi vorremmo fare alcune sistemazioni per quanto riguarda le tribune e a giugno in collaborazione con la Proloco Tre Colli di Mondolfo realizzeremo organizzeremo il torneo La Stracittadina quindi un torneo che ritorna dopo tanti anni e quindi questo darà lustro al nostro centro storico lì ci hanno giocato tantissimi cittadini e finalmente è ritornato a splendere come un tempo anzi forse è diventato anche più bello rispetto a come era prima quando ci giocavano quando una giunta comunale ed il suo sindaco funzionano perché deve decadere per limiti di tempo un referendum per riconfermare sindaco e giunta sarebbe la cosa più giusta grazie sindaco anche se abito a Ponte Sasso di Fano per cui non è nemmeno di parte non è di parte sul turismo le chiedono sulla stampa si è eletto di numeri molto importanti di visitatori ai musei civici ma anche alle mostre a Mondolfo nel corso del 2019 come intende procedere l'amministrazione comunale per questa attività turistica legata a uno dei borghi più belli d'Italia sì allora i musei il museo civico abbiamo ampliato intanto le aperture al museo da quando ci siamo noi il museo è aperto grazie anche alla collaborazione e al coinvolgimento con le associazioni del territorio in particolar modo penso all'archeoclub di Mondolfo siamo riusciti a fare un bel lavoro perché abbiamo aumentato le aperture ai musei anche con persone che sono dei professionisti a livello culturale quindi ci fa molto piacere questi numeri che vengono fuori appunto dai dati oggettivi abbiamo raddoppiato rispetto all'anno scorso siamo arrivati a 8.300 mi sembra visitatori nel museo civico di Mondolfo nel complesso monumentale di Sant'Agostino quindi continueremo con le iniziative penso alla mostra delle macchine di Leonardo penso alla mostra di Picasso alle mostre che sono state organizzate quindi con Sinestesia Festival con altre associazioni del territorio quindi davvero il complesso monumentale di Sant'Agostino è da qualche anno un punto di riferimento per chi viene da fuori ma anche per la comunità non veniva visto prima forse anche da chi abita magari più lontano rispetto a Mondolfo ma sempre nel nostro comune il complesso monumentale di Sant'Agostino qualcuno non lo conosceva adesso è ritornato a vivere siamo riusciti anche a riqualificarlo grazie a dei volontari in alcuni spazi continueremo in questa riqualificazione ci sono delle aree che sono inutilizzate che potrebbero diventare degli spazi museali come spazi espositivi li potremmo ricavare dall'intervento che facciamo al Bastione Sant'Anna perché recuperiamo la parte sotto del Bastione dove ci sono delle aree che possono essere poi utilizzate dalle associazioni culturali per incontri ma anche per mostri per il teatro ci sono dei progetti richiedono? allora per il teatro il cinema teatro di Mondolfo noi abbiamo uno studio di fattibilità per 99 posti a sedere è uno studio che però richiede un intervento importante di circa di più di un milione di euro quindi dobbiamo fare una valutazione come amministrazione comunale ma anche come consiglio comunale e come assieme alla cittadinanza condividendo assieme alla cittadinanza se è meglio trovare un'area alternativa e io immagino un cinema teatro nuovo sempre all'interno del centro storico perché questo è il nostro punto di riferimento culturale quindi un'area alternativa all'interno del centro storico di Mondolfo oppure riqualificare l'esistente e vedere se dal punto di vista della sicurezza possiamo aumentare anche il numero di posti perché per ora per quanto riguarda le normative antincendio per quanto riguarda le uscite di sicurezza negli spazi che ci sono attualmente per ora abbiamo visto che tecnicamente è fattibile con 99 posti e non di più poi se si deciderà di riqualificare quello esistente quindi dovremo partecipare a dei bandi perché poi l'amministrazione comunale non riesce a scegliere a proposito di cultura invece hanno richiesto in particolare gli studenti universitari una biblioteca a Marotta in quanto quella di Mondolfo è un po' piccolina si riuscirà a fare qualcosa? Sì uno spazio culturale si è sempre richiesto a Marotta noi adesso abbiamo una situazione ancora incerta che si dovrebbe definire a breve perché la giunta regionale dovrebbe deliberare per quanto riguarda la destinazione e la proprietà in particolare degli immobili di Marotta a nord che è l'area oggetto di unificazione perché dopo l'unificazione la giunta regionale dovrebbe deliberare per il passaggio degli immobili di via Ferrari e dell'ex scuola di via Damiano Chiesa dal comune di Fano al comune di Mondolfo quando porterà avanti questa delibera tra l'altro l'indirizzo era stato già approvato dalla stessa giunta regionale nel 2015 quando verrà approvata questa delibera e se sarà così che ci sarà il trasferimento dei due immobili al comune di Mondolfo ci saranno degli spazi che potranno essere utilizzati dalla comunità di Marotta quindi riapriremo in qualche modo quegli spazi Passiamo dai giovani agli anziani perché la regione ha bocciato l'emendamento sul centro di urno appunto per malati di Alzheimer però che cosa è successo? È successo che l'amministrazione vuole dare una risposta concreta vediamo ecco questo articolo di giornale una risposta appunto a sostegno dei malati di Alzheimer ma anche per le loro famiglie che quotidianamente incontrano delle difficoltà Sì è ormai una patologia molto diffusa quindi la politica e le amministrazioni comunali devono assolutamente dare risposta ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie noi abbiamo fatto una proposta che veniva anche un po' dalla comunità abbiamo dei locali attualmente inutilizzati contigui all'ex ospedale Bartolini dove adesso c'è il presidio sociosanitario molto attivo che ha diversi servizi importanti per tutta la comunità ma avevamo questo locale che era locali inutilizzati una parte di questi poteva essere utilizzata può essere utilizzata per un centro di urno per malati di Alzheimer era una risposta che davamo a tutta la comunità ma che era un'opportunità anche per la regione e l'Asur da portare avanti noi abbiamo dato la disponibilità di questi locali e purtroppo c'è stato abbiamo saputo di questa bocciatura dell'emendamento che è stato fatto dal consigliere regionale Talè però mi è sembrato un emendamento un po' particolare devo dire la verità perché non mi aspettavo un emendamento da parte di un consigliere regionale che ha la delega alla sanità e quindi uno dei dei fautori di questo piano socio-sanitario quindi ha avuto più di un anno di tempo per preparare il piano socio-sanitario e quindi se credeva in un centro di urno per Alzheimer a Mondolfo a mio avviso non era necessario l'emendamento io credo che la politica debba dare delle risposte durante tutto il corso del mandato e non solo quando a ridosso delle elezioni regionali comunque ci è dispiaciuto ci è dispiaciuta anche questa queste dinamiche conflittuali tra le forze politiche di maggioranza in questo caso in cui hanno messo hanno messo al centro l'Alzheimer e questo problema hanno un po' giocato su questo problema e su questo tema noi dall'altro lato abbiamo detto andiamo oltre a queste dinamiche conflittuali e noi come amministrazione comunale facciamo il nostro mettiamoci del nostro cerchiamo di aiutare le persone le famiglie i malati e quindi che cosa abbiamo fatto intanto abbiamo coinvolto le associazioni del territorio che sono sensibili a questo tema come l'Auser da un lato per gli incontri caffè Alzheimer che sono andati molto bene quindi incontri e attività sul territorio anche coinvolgendo i comuni della vallata del Cesano però abbiamo fatto di più perché abbiamo coinvolto anche la Croce Rossa per quanto riguarda il trasporto quindi ci sono diverse famiglie del nostro territorio che portano i malati al centro di urno Margherita di Fano e quindi abbiamo deciso di deliberare una compartecipazione delle spese per quanto riguarda il trasporto che è un segnale un sollievo un supporto alle famiglie concreto quindi ho visto che le famiglie abbiamo incontrato diverse famiglie che utilizzano il trasporto della Croce Rossa ed erano ben contente di questa soluzione non è da me fare polemica su quello che succede a livello regionale però io credo che bisogna dare delle risposte concrete alle famiglie soprattutto quando si parla di queste tematiche non bisognerebbe strumentalizzarle bisognerebbe lavorare tutti un po' più uniti in questo caso perché riguarda tutti noi e dare delle risposte concrete ai cittadini non fare articoli di facciata dicevo prima di andare in pubblicità del bilancio è stato approvato innanzitutto verranno aumentate le tasse allora le tasse no e le tariffe rimangono quelle quindi non non ci sono state modifiche dal 2019 al 2020 le tariffe rimangono le stesse anche se abbiamo migliorato ad esempio il servizio di trasporto degli scuola bus che ci costa di più abbiamo deciso di coprirlo non chiedendo risorse alle famiglie ma abbiamo deciso di farlo autonomamente con il bilancio comunale e abbiamo fatto un'altra operazione che è stata la rimodulazione dell'addizionale IRPEF quindi abbiamo incrementato la soglia di esenzione mentre prima era 8.000 euro adesso è 10.000 euro con questa modifica 3.000 cittadini circa dai dati del comune di Mondolfo quest'anno saranno sollevati dal pagamento dell'IRPEF e quindi credo che sia una risposta concreta alla cittadinanza le altre tariffe sono rimaste invariate abbiamo comunque portato avanti una politica fatta di opere pubbliche e di investimenti la minoranza addirittura ci ha attaccato che nel piano delle opere pubbliche non c'è quasi niente ma se vedete nella città è praticamente un cantiere aperto pieno di progetti e di opere che stiamo portando avanti per cercare di migliorarla per quanto riguarda il sociale abbiamo mantenuto le stesse cifre negli ultimi anni abbiamo aumentato le risorse a bilancio sul sociale abbiamo mantenuto il fondo anticrisi per le famiglie in difficoltà abbiamo anche mantenuto i contributi per gli incentivi per aprire nuove attività in zone strategiche della città sul lungomare di Marotte nel centro storico di Mondolfo ma i piccoli 12 consiglieri vi danno una mano vi consigliano appunto? ci danno una mano c'è una una bella squadra e la cosa bella è la squadra il fatto che andiamo tutti molto d'accordo e questo è molto importante per il territorio perché poi quando si fa una scelta la si fa tutte insieme non c'è qualcuno che tira per una parte o qualcuno anche i bambini visto che sono stati eletti il consiglio dei bambini i 12 i 12 piccoli consiglieri in quel senso ci danno una mano importante anche loro perché abbiamo portato avanti questo progetto del consiglio dei bambini proprio per avvicinarli alla vita amministrativa della città e coinvolgerli devo dire che ci sono stati dei progetti importanti sull'ambiente sull'abbattimento delle barriere architettoniche sui mosaici quindi il tema di quest'anno è conosciamo il nostro territorio quindi conosciamo Mondolfo e Marotta quindi siamo partiti dai vessili da uno dei borghi più belli d'Italia e le spighe verdi per Mondolfo per Marotta bandiera blu comune ciclabile e città del mare d'inverno il cui conferimento è stato dato in consiglio comunale nel 2018 e infatti abbiamo appunto realizzato e stiamo anzi realizzando perché verrà posizionato a maggio sul lungomare di Marotta proprio il mosaico della città del mare d'inverno grazie al contributo e alla collaborazione di queste volontarie del nostro territorio dell'associazione Chiaroscuro che rappresentano delle cittadine modello che vogliono bene al nostro territorio stanno riqualificando il nostro comune diverse zone in particolare il lungomare lo chiamano ormai il lungomare dei mosaici ci sono tante iniziative tante attività coinvolgono tante persone creano entusiasmo anche a noi alla nostra amministrazione alcune volte siamo andati anche a contribuire a mettere qualche tassello come amministratori comunali però dai un bel progetto che coinvolge la comunità e queste sono cose che sono anche più importanti delle opere pubbliche spesso le chiedo veramente un botte risposta 10 secondi a domanda a che cosa serve il semaforo di Centocroci visto che c'è una rotatoria prima e dopo il semaforo inquina soltanto sì quello è un tema che che è stato molto dibattuto in passato perché il quartiere diciamo è diviso a metà tra chi vuole il semaforo e chi non lo vuole perché comunque il semaforo dà sicurezza soprattutto per l'attraversamento della strada si parlava ai tempi anche della realizzazione di una possibile rotatoria ma poi adesso con le normative che sono cambiate dal punto di vista progettuale è davvero molto difficile e complicato è previsto nell'ampliamento del cimitero comunale anche una piccola zona di sepoltura per gli animali d'affezione? No al momento questo non è previsto abbiamo visto però che in alcuni comuni anzi alcuni cittadini di altri comuni ne hanno fatto richiesta a mio avviso questa è la prima volta che lo sento dai cittadini di Mondolfo si provvederà anche alla disinfezione e sanificazione sul guano di Piccioni in particolare nel centro storico dicono vicino all'ospedale si penso che faccia riferimento a una segnalazione che era arrivata i giorni scorsi nelle settimane scorse da una cittadina in particolare per l'ex ospedale Bartolini quindi abbiamo anche sollecitato l'Asura adesso non so se hanno fatto l'intervento questi giorni comunque è una segnalazione che abbiamo e quando sarà terminata la pista ciclabile in fondo a Via Buozzi? in fondo a Via Buozzi c'è stato anche un intervento ho visto un commento di una persona di un cittadino che ce l'ha segnalata cercheremo di risolvere questa situazione a breve lì era stata creata in passato dalla precedente amministrazione questo percorso ciclopedonale che però era praticamente incompleto e bisogna completarlo non manca tanto abbiamo chiesto all'ufficio tecnico di farci una valutazione di quelli che sono i costi del completamento di questo piccolo tratto ritorniamo un attimo sulla pergolese dall'uscita dell'autostrada alla discoteca Miu quando la discoteca stessa è aperta i ragazzi percorrono a piedi di notte al buio dal parcheggio dell'uscita dell'autostrada alla discoteca si può trovare una soluzione prima che succeda l'irreparabile? abbiamo fatto un comitato proprio in prefettura assieme la prefettura la questura l'arma dei carabinieri e anche i gestori del locale perché il locale era chiuso da diversi anni e ha aperto diciamo qualche anno fa l'anno scorso e quindi adesso ha iniziato diciamo ad essere molto molto attivo e quello è un problema serio che abbiamo la strada è di proprietà dell'ANAS quindi abbiamo coinvolto anche l'ANAS metteremo adesso dei cartelli di segnaletica anche di attenzione luminosi stiamo studiando assieme alla polizia locale il modo migliore per far sì che le automobili vadano più più piano e quindi lì purtroppo la carreggiata è molto stretta ed è difficile che ci sia un percorso pedonale adesso stiamo studiando anche con l'ANAS gli abbiamo richiesto un contributo quindi contribuire anche lei in un intervento però un altro aspetto che ci tengo a sottolineare è stato richiesto in questo tavolo che abbiamo fatto in prefettura anche ai gestori di creare appunto dei veri e propri bus navetta che dal centro di Marotta portano al locale e di dare informazioni continue anche durante la serata quindi è un tavolo che ancora è aperto perché è una situazione che è irrisolta da tantissimi anni da tanto tempo che lì l'aspetto che ci tengo a sottolineare ed è un aspetto importante è quello che comunque ha un parcheggio interno il locale che è molto importante con un numero elevato di automobili di posti auto e questo è importante perché le automobili almeno non parcheggiano sulla strada andiamo Alex a passaggio a livello il tratto che da Fano va in direzione Senigallia non si potrebbero togliere quei cartelli appoggiati a terra di lavoro in corso cambiare anche la segnaletica orizzontale cercare di snellire un po' ci chiedono dove c'era il passaggio a livello a Marotta dicono che ci sono c'è una segnaletica orizzontale da sistemare ci sono dei cartelli a terra di lavoro in corso Va bene faremo un sopralluogo e controlleremo non so se si riferiscono a cartelli del cantiere che c'è in corso però mi segno la segnalazione Quando si realizzerà la rotatoria al posto del semaforo a Marotta? Allora la rotatoria noi stiamo attendendo le autorizzazioni da parte dell'ANAS di Roma al progetto della realizzazione di questa rotatoria tra la strada statale e la strada pergolese ci tengo a precisare che quel terreno che è un terreno recintato ancora è di proprietà del privato quindi noi come comune di Mondolfo ci muoveremo con gli espropri abbiamo però li porteremo avanti gli espropri solo nel momento in cui avremo l'autorizzazione da parte dell'ANAS altrimenti faremo un esproprio inutile e utilizzeremo risorse di tutti i cittadini per un'opera che poi non può essere realizzata un passo importante l'abbiamo fatto in consiglio comunale siamo andati con l'approvazione della convenzione tra comune di Mondolfo e ANAS di Ancona dove il comune di Mondolfo si preoccupa insomma degli espropri mentre l'ANAS di Ancona farà progettazione e realizzazione poi l'ANAS la dovrà inserire nel piano degli investimenti sono contento che mi fanno queste domande le fanno spesso sulla rotatoria ma è bene spiegare quella che è la situazione perché sembrava che la rotatoria dovesse venire fuori nel 2016 a un mese dopo le elezioni comunali invece non è così bisogna vi chiedono anche della sistemazione del cinema se è in programma la sistemazione del cinema di cui abbiamo parlato penso prima del cinema teatro quindi dovremmo fare una valutazione a mio avviso in consiglio comunale quello che dicevo prima quindi condividerla con la città però a mio avviso dopo il campo sportivo di via fermi non ci poniamo limiti quindi speriamo di riuscire anche nella sistemazione del cinema molte strade sono piene di buche ci sono delle asfaltature invece in programma che farete? nel bilancio 2020 prevederemo un piano asfaltature di circa 300 mila euro e quindi le asfaltature costano però riusciremo a coprire diverse vie terremo in considerazione diciamo lo stato attuale anche le segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini negli anni quindi diciamo che punteremo anche sul rifacimento del manto stradale e siamo in contatto con con l'ANAS perché dovrebbe appunto nel 2020 ci aveva promesso che avrebbe asfaltato la strada pergolese che è una strada di cui ne parlavamo prima una strada che deve avere attenzione dell'amministrazione comunale ma anche dell'ANAS per il rifacimento anche del manto stradale perché è diventato molto pericoloso e ci hanno si sono impegnati nel rifacimento del manto stradale in gran parte della strada pergolese una parte era già stata fatta avevamo scelto come zona la parte peggiore che era quella di San Gervasio Ponterio anche via Andersen tra l'altro ci hanno scritto prima che non è mai stata sistemata e quindi avrebbe bisogno anche via Andersen ho incontrato diversi cittadini nei giorni scorsi e quindi gli abbiamo detto che potrebbe essere l'occasione giusta quello che cambierà riguarda anche la raccolta differenziata ci può dare maggiori dettagli allora la raccolta differenziata come sapete è scaduto il vecchio servizio ripartirà quindi il nuovo nella gara è stata già affidata al gestore che è Onofaro che è la ditta che ha vinto la gara europea hanno partecipato diverse ditte hanno vinto loro che gestiscono già una buona parte del territorio Marotta Centro Marotta Sud e Mondolfo non ci sono stati ricorsi e questo è un altro aspetto importante perché significa che la gara è stata fatta nel migliore dei modi è un servizio che sarà un servizio che cambia ma un servizio di qualità sarà un porta a porta spinto su tutto il territorio comunale finalmente andiamo ad uniformare anche la zona di Marotta Nord che in questo caso era gestita da Aset e quindi dal primo di marzo verrà uniformato tutto il servizio marzo e aprile rimarrà il servizio come attualmente quindi con il bidone plastica vetro e sfalci di prossimità e il resto porta a porta per Marotta Nord in prossimità avevamo anche abbiamo anche la carta e rimane per marzo e aprile e poi dai dal primo dai primi di maggio queste sono le tempistiche poi invieremo le lettere a casa e quindi ci saranno delle informazioni molto precise con assemblee pubbliche che verranno fatte in tutti i quartieri però partiremo a maggio con la raccolta porta a porta spinto su tutto il territorio comunale quindi non ci saranno più bidoni stradali sul nostro territorio ci saranno però delle isole che potranno essere a cui i cittadini potranno accedere con una tesserina però sarà tutto porta a porta quindi verrà inviato poi il calendario quindi plastica vetro tutti qualsiasi cosa sarà porta a porta per i cittadini di Marotta Nord faremo una informativa prima nelle prossime settimane prima degli inizi di marzo per dare tutti i nuovi riferimenti finalmente potranno andare al centro di raccolta che abbiamo qui a Mondolfo forse gli cambierà anzi sicuramente gli cambierà una cosa nei primi due mesi a marzo e aprile il servizio rimarrà tale però i bidoni i bidoncini dovranno essere esposti dalle 22 alle 5 del mattino invece di essere abituati ad esporli alla mattina alla mattina quindi alla sera prima dovranno cambierà solo questo per quanto riguarda il porta a porta a marzo e aprile ci continuano a chiedere delle informazioni sulla banda ultralarga ne abbiamo parlato più o meno all'inizio di questa puntata vi ricordo che potrete anche riguardarle su facebook youtube sul nostro sito ultima domanda dei cittadini quando partiranno i lavori per la sede dell'ambulanza del 118 ne è il corrente allora l'asur ci ha dato questa informazione che partivano nella prima metà del del 2020 adesso ci aggiorneremo anche nei prossimi nei prossimi mesi questo è un intervento che farà ASUR nel terreno a fianco all'attuale sede della Croce Rossa e ci aveva assicurato che nella prima metà del 2020 sarebbero partiti quei lavori concludiamo con gli eventi io direi di partire dal carnevale visto che è una manifestazione molto importante sarete a Fano? allora sarà a Fano la Proloco Trecolli di Mondolfo che sta realizzando un carro che ancora non ho visto e andrò a vederlo al capannone nei prossimi giorni me lo volevano far vedere in anteprima però saranno mi hanno detto che saranno al carnevale di Fano domenica stanno realizzando questo carro in collaborazione anche con la Proloco di Urbani c'è stato questo gemellaggio tra le due Proloco e fa sempre piacere quando le associazioni del territorio si aprono anche all'esterno in questo caso entrano a far parte del carnevale di Fano che è uno degli eventi più importanti della nostra provincia e poi ci sarà anche il carnevale a marzo faremo il carnevale anche qui anche nel centro storico di Mondolfo in collaborazione con altre associazioni con la Proloco Trecolli quindi insomma ci sarà da divertirsi abbiamo parlato prima di cultura di libri biblioteche Book Cafè Book Cafè è un'iniziativa portata avanti dal consigliere con delega la cultura Enrico Sora ed è un'iniziativa che ci piace molto perché sono delle serate in cui teniamo aperta la biblioteca comunale quindi fa vivere tutta la comunità diciamo sa che la biblioteca comunale è aperta anche di sera e c'è sempre un autore che presenta il proprio libro e quindi è un modo per far conoscere alle persone la nostra biblioteca è un modo per confrontarsi per informarsi parlare di cultura quindi fa sempre molto piacere e con l'aiuto della grafica vi facciamo vedere la locandina di un altro evento molto importante eccolo qua Giro E 2020 Sì quest'anno ci sarà allora domani saremo intanto alla BIT a Milano con l'assessore al turismo e eventi Davide Caporaletti saremo alla BIT a Milano a promuovere le marche e il nostro territorio ci sarà saremo anche il 15 febbraio a Verona al Cosmo Bike Show dove che è il festival diciamo della bicicletta dove verrà presentato il Giro d'Italia E siamo alla seconda edizione il Giro d'Italia è organizzato dall'RCS quindi anche in collaborazione con la Gazzetta dello Sport e altri sponsor come Enel X ed è praticamente un giro delle bici elettriche con dei medagliati olimpici con persone del mondo dello spettacolo quindi è più una ciclo turistica non una gara di competizione però la cosa importante è che a livello nazionale e va insieme al percorso del Giro d'Italia quindi le bici elettriche percorreranno nelle giornate del Giro d'Italia lo stesso percorso che fanno i ciclisti appunto del Giro d'Italia in questo caso la tappa del Giro d'Italia sarà a Porto Sant'Elpidio Rimini il Giro E partirà quest'anno a Marotta partiremo in Piazza dell'Unificazione faranno la nuova ciclabile il nuovo lungomare di Marotta Nord quindi diciamo che è un altro tassello che si collega dal punto di vista della mobilità sostenibile quindi conosceranno il nostro territorio dormiranno quel giorno la sera prima nei nostri alberghi quindi in collaborazione anche con gli alberghi del territorio che ci hanno dato la loro disponibilità poi entrano nel sottopasso delle rane e quindi sulla nazionale continueranno il percorso sulla stessa lunghezza d'onda del Giro d'Italia insomma tanti eventi tante iniziative anche tanti gli argomenti che siamo riusciti a trattare questa sera vorrei ringraziare tutti i nostri telespettatori perché grazie ai vostri messaggi e alle vostre telefonate riusciamo a collaborare anche a far emergere qualche cosa che potrebbe essere migliorata vorrei ringraziare in regia anche Riccardo Sora e Cristiana Guerra e grazie a lei Sindaco per essere stato con noi io ringrazio a voi è sempre un momento importante di condivisione con la cittadinanza quindi mi fa piacere essere qua grazie ancora al Sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri e buona serata a tutti voi